Ragazzi buongiorno e bentornati sul canale del coach. Oggi andiamo in questo video a parlare dei segnali che indicano che stai mangiando troppo. Bene, allora sembra abbastanza facile dire quali sono i segnali che stai mangiando troppo, però ribadirli secondo me ti può aiutare. Se ancora non mi conoscesse, io sono il coach Umberto mi ha letto in questi anni ho invitato grazie al mio canale YouTube, grazie ai miei videocorsi, grazie ai miei allenamenti, ai miei articoli, milioni di italiani a rimettersi in forma e a dare il massimo nei loro allenamenti. Il mio scopo è educarti, il mio scopo è informarti, darti le buone nozioni per riuscire a capire di dare il meglio in quello che stai facendo. In questo video andiamo a capire se stai mangiando troppo oppure no. Allora ci possono essere due situazioni, tu puoi mangiare troppo nel mentre non stare facendo nulla. Quindi in questo caso è molto facile capire se stai mangiando troppo. Stai mangiando troppo perché ti stai accorgendo che di mese in mese ma soprattutto di anno in anno il peso sulla bilancia sta crescendo ed è incredibile vedere come nel giro di 10 anni, da 20 a 30 anni il peso possa salire anche di 10-15 kg. Prova a guardare magari delle tue vecchie foto di quando avevi qualche anno in meno e ti puoi accorgere che potresti essere una persona totalmente differente. Cosa è successo in questi anni che ti ha portato a raggiungere il peso attuale? Probabilmente l'inattività fisica, probabilmente perché ha incominciato, finito magari il ciclo di studi, ha incominciato a lavorare, lo stress del lavoro, lo stress degli impegni quotidiani, molto probabilmente anche il modo con cui hai iniziato ad alimentarti. Magari hai incominciato a mangiare di più e non te ne sei neanche accorto. Ed è un attimo che il peso sale, incrementa e arrivi a un certo punto che devi capire come fare per ridurlo. Questo secondo me è importante anche perché ti accorgi che stai mangiando troppo a parte vedere il peso che è salito. Ovviamente è aumentata la percentuale di grasso. Magari ti puoi accorgere se sei abituato e se non sei abituato, il mio consiglio è comunque farlo. Ogni tanto vai a fare qualche esame del sangue e ti puoi accorgere che alcuni valori degli esami sono sballati. Questo può essere anche un sintomo che non stai mangiando in maniera corretta o magari stai esagerando nel mangiare. Altre cose potresti sentirti sempre appesantito, potresti sentirti sempre stanco, svogliato. Sono tutti segnali che stai mangiando troppo ed è il momento di iniziare a fare qualcosa. Quindi se devi fare qualcosa ti posso dire che sei nel posto giusto perché qua sul mio canale puoi trovare tanti consigli, tanti video anche gratuiti con cui puoi incominciare o altrimenti puoi magari accedere a qualche video corso anche per chi ha le prime armi vanno benissimo oppure magari contattarmi per qualche consiglio più personalizzato. Però potresti anche pensare che stai mangiando troppo, magari hai incominciato ad allenarti, hai incominciato a seguire una certa alimentazione e ovviamente ti accorgi che mangi troppo perché non stai andando nella direzione dei tuoi risultati. Se tu hai incominciato ad allenarti, vuoi andare a centrare un risultato, magari un risultato sulla composizione corporea, vuoi andare a ridurre il grasso corporeo e migliorare i muscoli, magari stai mangiando troppo perché le circonferenze non stanno migliorando, la plicometria non sta migliorando, il peso non sta andando in quella direzione, quindi potresti aver livellato la tua dieta a un valore troppo alto. Quindi il consiglio in questo caso, se sei seguito da un nutrizionista, cercare di parlare con lui, capire che non stanno arrivando i risultati e magari potrebbe essere necessario ridurre le calorie, oppure magari andare a rimodulare i macronutrienti. Noi sapremo che i macronutrienti sono i grassi, le proteine e i carboidrati. Magari stai mangiando più carboidrati, magari puoi ridurre i carboidrati, alzare un po' i grassi e le proteine. Considera che andare a capire, a tarare anche i macronutrienti non è cosa facile. Esistono gli nutrizionisti proprio perché ci aiutano andare a tarare al meglio l'alimentazione per le nostre caratteristiche, quindi questo è un fattore importante. Però tutti questi segnali che ti ho detto ti possono far capire se stai mangiando le giuste calorie oppure stai mangiando troppo. Se stai mangiando troppo, la cosa migliore è cercare di rimediare andando, secondo me, da un buon nutrizionista che ti possa accompagnare in un percorso, ma soprattutto ti possa insegnare a mangiare in maniera corretta per le tue esigenze. Mi raccomando, spollicia se è la prima volta che vedi questo video, o comunque se mi segui da un po', iscriviti al canale perché ogni giorno sono qua per cercarti di darti delle informazioni utili per migliorare. Dai, dacci dentro e mi raccomando, non mangiare troppo. Ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito www.umbertomiletto.com Ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito! Grazie a tutti!